Sabato 2 settembre alle ore 17 in piazza Cavour a Danagni, tutti noi, la società civile, non solo chi ha a cuore la vita degli animali, ma proprio la società civile a mio avviso ha il dovere di scendere in piazza, metterci la faccia e condannare il gesto criminale che hanno compiuto questi quattro delinquenti, perché di questi si tratta. Abbiamo tutti noi il dovere di esprimere la nostra più profonda indignazione nei confronti di questi ragazzi che hanno compiuto un gesto che non ha e non può trovare mai alcuna giustificazione. Quattro delinquenti che hanno sfogato la loro frustrazione verso una povera anima indifesa, un animale indifeso che non ha nessuna colpa, che si è fidato di questi ragazzi, che pensava di ricevere due carezze e che invece si è trovato davanti, si è trovata davanti quattro mostri, quattro mostri, quattro scarti della società, consentitemi di dire, che devono essere assolutamente allontanati dalla società. Tutti noi dobbiamo assolutamente condannare il gesto e tenere a debita distanza questi soggetti, insieme ai loro pessimi genitori, che a distanza di tre giorni non hanno ancora avuto il coraggio e il buonsenso di metterci la faccia, di condannare il gesto e di dire sabato ci saremo anche noi in piazza. I nostri figli sono stati puniti e quindi ci saremo anche noi. E' vergognoso. Questa non è la fiuggi bene, la fiuggi bella. Questa è la fiuggi che fa vergognare l'Italia, che fa vergognare la società civile ed è quella parte di popolazione che, ripeto, deve essere assolutamente tenuta a debita distanza. A noi non basta la condanna, se condanna vogliamo chiamarla della legge italiana, che purtroppo a causa delle pene ridicole non punirà mai questi quattro ragazzi, ma noi vogliamo la condanna pubblica di questi ragazzi. Vogliamo nome e cognome, non perché dobbiamo fare la giustizia fai da te, assolutamente no, io sono contro la violenza, ma perché tutti i cittadini hanno il diritto sacrosanto di sapere chi sono e di tenerli a debita distanza. Fuori nome e cognome di questi parassiti. Abbiamo il sacrosanto dovere di sapere chi sono. Ci vediamo sabato in piazza. Mi raccomando, non mancate.